fastidioso avrei sempre qualcuno intorno sono abituato e così e basta come è stata ieri giallatani come va noto ne abbiamo anche in italia ne abbiamo so quello che devo fare sta facendo un po di scena sta facendo mai interessato andrà bene sei sicuro di voler andare avanti assolutamente la lascia un po in sospeso la lascia andiamoci a mangiare una cosettina amico bravo e ci aggiorniamo mi racconti tutto quello che hai fatto in questo periodo mister ruzza i'm cancelling our meeting for today the object we spoke about doesn't really interest me enough but i would be happy to do business with you in the future so let's keep in touch thank you